Sono al lavoro dalle tre della scorsa notte i vigili del fuoco di Bassano, Asiago, Vicenza, i volontari di Tiene intervenuti con tre autopompe, quattro autobotti, un'autoscala e 20 operatori per domare un pauroso incendio divampato all'interno di una falegnameria. Siamo in via Lazzaretti, a Foza, sull'altopiano di Asiago. Ingenti danni, ma fortunatamente nessuno è rimasto ferito. I pompieri hanno iniziato attorno alle tre le operazioni di spegnimento del capannone di oltre mille metri quadri avvolto dalle fiamme, le cui origini sono al vaglio dei tecnici. Dopo circa due ore le squadre sono riuscite a circoscrivere il rogo. Completamente bruciato tutto il legname depositato, oltre ai macchinari di lavorazione e alcuni muletti. Le lingue di fuoco hanno portato al collasso parte della struttura, ore di lavoro che hanno portato al completo spegnimento del rogo, cui sono seguite le operazioni di bonifica che sono proseguite per gran parte della giornata. Sul posto, in mattinata, anche il personale dell'ARPAV per valutare la situazione e scongiurare eventuali inquinamenti d'aria o suolo.